Un incontro che è promosso da ASSO CONF, Associazione Consumatori e Famiglie, che si svolgerà all'Oratorio di Salleo. Per che cosa? Allora, il 26 ottobre alle ore 18 si svolgerà questo workshop all'Oratorio di Salleo sul gioco d'azzardo patologico e il sovrandebitamento delle famiglie. Abbiamo organizzato questo incontro promosso dal MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ogni anno, il mese di ottobre, è dedicato all'educazione finanziaria. Perché da una statistica del MEF le famiglie conoscono le tariffe del cellulare, i giga, ma non conoscono quanto costa un conto corrente. Quindi tutto questo mese di ottobre è organizzata l'iniziativa di promozione sull'educazione finanziaria. E l'educazione finanziaria comprende anche il gioco d'azzardo, perché poi alla fine chi gioca e si indebita e poi finisce per indebitare anche le famiglie. Quindi cerchiamo insieme al Presidente del CERT di conoscere anche qual è la nostra realtà della nostra città e quindi di cercare di trovare anche uno spiraglio legislativo per poter aiutare queste famiglie. Anche la nostra associazione mette a disposizione un supporto anche per poter offrire saldi e stralci alle finanziarie. Ecco, la cosa importante è proprio questa mano tesa nei confronti di quello che è sicuramente un mondo sommerso. Ecco, questa iniziativa è forse volta anche a questo, a dare questa mano tesa e fare in modo che qualcuno la prenda. Esatto, perché molto spesso le persone non sono consapevoli del loro problema e quindi di solito le persone affette da gioco d'azzardo sono delle persone che soffrono di questa patologia, sono persone tendenzialmente bugiarde e quindi nascondono anche per vergogna la propria situazione. Ecco, la pandemia ha un po' acuito questi problemi. Esatto, con la pandemia il gioco d'azzardo non è diminuito perché nonostante le tabaccherie erano chiuse per il Gratte Vince, per gli altri giochi, però le persone sulle stesse espressioni sono spostate online.